Noi adulti di oggi siamo figli di un approccio educativo permeato di pedagogia nera, dove il bambino è visto come piccolo selvaggio da raddrizzare al più presto e dove lo sguardo sui comportamenti tende a essere sfavorevole. Vediamo ovunque opposizioni, sfide, mancanza di rispetto, maleducazione e così via. In particolare il bambino o la bambina che dice no, che non fa o fa il contrario di quello che diciamo, viene subito etichettato come provocatorio o positivo o sfidante. In realtà le cose sono ben più complesse come le neuroscienze ci attestano. Il no di bambini e bambine ci parla di molto altro, per esempio dalla costruzione della loro personalità, delle sfide della crescita, della stanchezza, del sovraccarico sensoriale, della disregolazione emotiva. Abbiamo bisogno di cambiare sguardo per poter osservare i nostri bambini e bambine con più empatia e per poterli guidare lungo i sentieri della vita con solidità e amorevolezza. Che fare? Vi dico di più nella caption e vi aspetto nei commenti. A presto, ciao!